Musica Allora, dato che sono a livello 15 e le altre missioni sono tipo a livello 20 a meno che non ci sia qualche posto che non ho ancora scoperto io andrei a seguire la freccia Ecco qua Il pulsante zoom indietro però verrà ok aspettate un momento oddio ma è lontano no magari sembra Devo andare in alto mi sa Si, devo andare in alto Ok, eccolo Dobbiamo cercare di diventare più forti, molto più forti Le missioni sono il modo più rompito di diventare più forti Quanto più forte? Sai che sono abbastanza forte Guarda, c'è troia Beh Merda, non ho più neanche io Sono un po' di ore Dai, non voglio morire adesso Eh Dai, con uno di vita Forza Forza Cosa è che gli dà 50? E penso sia la vita Troppo Stardo Un altro Ok, 16 Meno male Che culo Meno male Sardo a fiamme e piante Mia sorella, dove? Oh cazzo In serio, non so Ma Ma porca D'accordo Mi alene ronco Rompo Quora Sido Meno male Sido